Giovedì sono da ShopRite, ce ne sono due nella mia zona, sono all'altro perché ero vicino, ero da queste parti, questo è un po' diverso, carino come hanno fatto l'entrata, ci piace I pumpkin donuts, wow, fatta con la zucca, ci piace All right, thank you All right, thank you Ho preso della salsiccia per pranzo, quando si dice italian vuol dire è semplice, sale, pepe Spezzi semplici, questo ha il cavolo di nero dentro, gli ho avuto peperante, era veramente buono Non ho preso tante cose perché avevo già fatto la spesa Do sempre una guardatina qui, la carne è molto più costosa di Lidl e la qualità è uguale Stavo cercando la farina perché voglio fare le pizzette per stasera, ho preso il lievito Ho provato, ho preso questo, questa è la farina di mais, per fare la polenta E ho preso la farina, ho preso quella O-O, double O, no questa era costosa, ho preso una confezione più piccola, 3,99 Pensa questa Dipende come vuoi fare la focaccina O provo a varietà di Comunque stavo cercando Io ho, c'è di barbecue di sauce, ce ne sono tantissime i sughetti barbecue A me piace quella Carolina Ho preso il Carolina Gold che ha molto più mostarda dentro, buonissima Le barbecue sauce, quelle di Carolina, ogni stato ha la sua, quello Carolina Ne hanno due tipi, Gold vuol dire che c'ha più mustard dentro Questo sughetto di Chick-fil-A è un ristorante, il sughetto che ci mettono sopra è ottimo E ora la vendono, quindi Chick-fil-A è veramente buono Sulla, il pollo fritto Cos'altro Cos'altro che stavo guardando qui Guardo sempre il costo della maionese QP Costa uno sproposito, è proprio la migliore maionese Ma costa troppo, no non ce la faccio, guarda, 6 dollari Poi ho preso dei pezzettini di pomodoro per fare la mia pizzetta Poche cose, insomma ho preso della Corn Chips O qui stavo guardando, perché io sono empatita per cose di pulire la casa, no? Di Mr. Clean hanno vari tipi, pulisce veramente bene, non come il mio Myers Però mi viene il profumo molto pulito, hanno vari profumazioni Comunque Stavo cercando le spugne per pulire, per lavare i piatti, cose del genere Poi ho messo il Myers che mi dura due settimane Geranium è il mio preferito, quello lo devo comprare sul loro sito Ho preso Peony Costicchia questo, però lascia le mani Io lo uso anche per lavare le mani, perché è così Molto delicato, adoro, lo so, costa un bel po' Il mio svizio per i piatti Poi cercavo le spugne, quelle che volevo io non c'erano Sono di Cellulose, però sono piatte e non c'erano quelle Quindi ho preso queste qui Sono Cellulose, queste le uso anche per lavare il corpo Sono di Cellulose Stavo guardando Io sono una patita per queste cose Chi è come me? Patita per cose di pulire la casa Poi ho preso una piccola bottiglia di cloro Per dare l'ultima passata Quando pulisco i bagni e la cucina Il lavandino Ho preso una bottiglia piccola E poi penso, non so Ho preso un po' di prosciutto cotto Che non vi ho fatto vedere Ho preso quello, ho preso un filone di pane Ho preso il cloro E cos'altro? Non mi ricordo, poco Ho preso il basilico Che mi serve Fa la mia pizzetta E penso finire il chips Ciao